più giovani abbiamo cominciato a rampicare insieme, forse le prime salite le abbiamo fatte insieme e devo dire che è stata una grande persona e devo dire che le più belle esperienze fatte in montagna le ho fatte con Ermanno. Ricordo solamente, voglio solamente ricordare proprio in Patagonia lo spigolo dei bimbi che grazie a una sua decisione aveva detto abbiamo fatto questa bella via, dedichiamola ai bambini che hanno subito quella disgrazia alla Galleria del Brentei e così abbiamo fatto e adesso in Patagonia c'è questa via